Questa sera alle ore 21 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta andrà in scena lo spettacolo Pericolo di Coppia, del Triangolo Notrio, formato da Michele Privitera, Alessandra Falci e Sandro Rossino. Una commedia scritta da Marco Cavallaro per la regia di Antonello Capodici. Vi invitiamo a venire se volete passare un'oretta e mezza in nostra compagnia facendovi due belle risate di quelle di cuore. E quindi basta venire al teatro, telefonate al botteghino, insomma approfittate di questi ultimi posti che sono rimasti per dire venite, venite così non ve lo raccontano. Vi aspettiamo in teatro, venite. Venite. Per favore, Edda. Venite, per favore. Ne va stati soli. Non è vero, il teatro è vuoto. Non credo che ci siamo fatti per il pari brutto. Aiuto, aiutatemi. Telefonate, ora vi diamo i numeri. Numeri, a tutto, al teatro, al teatro. Spargete voce. Spargete voce. Grazie a tutti.